Ci siamo, nuovo appuntamento con Baschettando, siamo alla concessionaria Ford, insieme a noi andiamo a presentare subito gli ospiti, alla mia estrema destra Marco Arrigoni, ciao Marco, insieme a Marco Antonio Serroni, ciao Antonio, ciao a tutti, Conrado Bianconi, ciao Corrado, buonasera, e debutta Lorenzo Carone, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Dunque è stato un weekend sicuramente positivo per la Vina Vilcipier Domodossola, la Pafone invece è caduta a Firenze, Antonio una vittoria che secondo me può darvi grande slancio in vista di queste ultime sei finali che vi attendono. Sì, assolutamente sì, dobbiamo vincere per rimanere vivi e dobbiamo prendere tutta la carica da questa vittoria per fare tutte le partite come una finale e dobbiamo pensare solo a vincere né agli altri né a tutti i contorni strani. Ti chiedo questo Corrado, avevo detto che magari nel derby, giocatori simbolo come era stato, come è Antonio, come sei stato tu, avevano difettato in certi momenti di personalità, domenica invece questa personalità l'avete tirata fuori caricandovi la squadra sulle spalle. Sì, magari eravamo consapevoli che nel terzo quarto nel derby ci siamo fatti sfuggire la partita dalle mani e ce l'avevamo parlati prima della partita e sapevamo di non ricommettere lo stesso errore e è andata bene stavolta. Parliamo delle pagelle, lo parliamo con Antonio. Invece Marco è arrivata questa sconfitta, preventivabile nel senso che gli infortuni fanno parte del gioco e non devono mai essere un alibi e una scusante, però è chiaro che mancando un giocatore che aveva fatto la differenza come Simoncelli solamente sette giorni prima, non è un caso che senza di lui il record sia una vinta e quattro perse se non va derrato. Sì, sì, hai detto bene, gli infortuni non devono essere un alibi, non devono condizionarci, però non ci aiutano neanche a trovare una continuità, diciamo, perché se fa Alex una partita, poi sta fermo, poi magari la salta qualcun altro. Ci manca un po' quella continuità che abbiamo avuto qualche mese fa, che ci ha aiutato a vincere qualche partita in fila e che dobbiamo assolutamente ritrovare. Invece voi e Corrado, poi lo chiedo anche a Lorenzo un giudizio, in questo momento siete tantissimi, siete in 12, speriamo che ai play out possa anche tornare Luca Falconi, quanto è difficile, ve lo chiedo, avere una rosa così e per l'allenatore fare delle scelte? Sì, sicuramente è difficile, per noi è solo un vantaggio, dobbiamo cercare di trasformare questa rosa lunghissima per un vantaggio ogni allenamento, per della sana competizione ogni allenamento, per farsi portare in panchina. Ma secondo me la difficoltà è tutta adesso nell'allenatore, che magari si trova a scegliere chi deve portare e chi non deve portare, perché a noi deve essere solo un vantaggio. Corrado? Sì, anche io la penso come Antonio, perché alla fine più siamo meglio è, c'è più competitività nei allenamenti, il livello resta più alto perché magari si possono fare dei cambi e si evitano situazioni come a gennaio, che magari eravamo veramente in sei, perché non c'era nessuno e quindi ora si può parlare di problema, ce l'avrà Alessio il sabato a scegliere, ma non penso sia una coda negativa questa, perché alla fine si sa, purtroppo due persone devono rimanere fuori a turno e dispiace perché quando due compagni di squadra non sono convocati dispiace, però magari è da stimolo anche per chi viene convocato, fare qualcosa in più per magari a fine partita fargli fare un sorriso per la vittoria. Lorenzo, ti chiedo di sbilanciarti, la Pafone è in lotta per il primo posto con Moncaglieri, Domu è in lotta per garantirsi l'accesso ai play-out, un tuo pronostico su queste due sfide che attendono Domu e Omegna? Allora, su Omegna, secondo me sono stati già bravi a rimanere in classifica dove sono adesso con tutti gli infortuni che hanno avuto durante tutto l'anno, perché non è mai facile, forse hanno giocato due partite dove erano tutti al completo dall'inizio dell'anno. Su Domo non mi voglio sbilanciare tanto perché ho un amico che gioca lì, cioè Penny, che l'anno scorso ha giocato non solo l'anno scorso con me, dall'altra parte che sono adesso pari in classifica c'è Shaq, anche lui ha giocato con me, lì non voglio fare pronostici. Non ti sei sbilanciato giusto, ha fatto come fanno in Italia, non si dice che cosa però ti sei salvato il corner. Dunque andiamo a sentirci le parole di Passera e di Fioravanti dopo la vittoria della Vinavi Cipir contro la Mami, poi più tardi ci vediamo anche le pagelle. L'importante era vincere in primis perché sapevamo che perdendo la situazione diventava un po' tragica. Per come si è evoluta la partita, quindi sopra 22 e terzo quarto, la mole di gioco prodotta, l'intensità difensiva che aveva messo per i primi 30 minuti, sicuramente magari c'è un po' di rammarico per lo scarto finale perché non avremmo rubato niente se dico che avremmo meritato di vincere con più punti di scarto. Purtroppo nell'ultimo minuto siamo stati poco lucidi, ma forse anche negli ultimi 3-4 minuti ai tiri liberi, non so che percentuale abbiamo, ma mi ricordo quanto? 1 su 8? 2 su 8. Capisci bene che anche a 5-6 secondi dalla fine Serroni c'è a tiro libero per andare più 13, lo sbaglia. Purtroppo dispiace per non aver ribaltato la differenza Canesti. Ora, non so come funziona, siamo pari, ci sarà con 7 Canesti, però sicuramente la squadra ha dato dimostrazione di essere viva, ha dato dimostrazione che comunque al completo ce la giochiamo con tutti. e come ho sempre detto, alzando la qualità della squadra, comunque poi in attacco, perché sulla difesa non c'è mai stato problemi, abbiamo sempre difeso bene, il problema era di far Canesti, direi che stasera con i giocatori giusti, il posto giusto, il momento giusto, con la giusta circolazione di palla, abbiamo trovato tiri importanti da mettere dentro. Aveva un po' tirato l'orecchio, tra virgolette, a Serroni per la sua apaticità, no? Nel derby questa sera si è quasi sempre caricato la squadra sulle spalle, si è visto. No, no, ma infatti noi sappiamo che Antonio è un giocatore importante, ma come importante Corrado, che stasera ha fatto una partita ottima, come importante Maurizio, mi sono importanti tutti. Io credo che stasera, a parte qualche disattenzione difensiva, c'è da fare appoggio a tutti i ragazzi. Poi nei momenti che contano ho deciso di mettere la palla a mano Antonio, perché mi sembrava quello che avesse un po' più fuoco nell'occhio, sai lì poi sono, a volte vai istinto, devi avere anche fortuna, no? Da chi mette la palla in mano, nei momenti che contavano ha fatto valere la sua esperienza e il suo talento. Quanto è difficile fare delle scelte con 12 giocatori che ci sono in questo momento a disposizione e si spera che possa arrivare anche il tredicesimo nel giro di un mesetto e mezzo. E a proposito di scelte, hai fatto una scelta precisa, no? Nel finale dentro Hidalgo hai cambiato foto, che mi sembra, l'ho detto in telecrona, che non ha tanto gradito, no? Sì, vabbè, poi quella è una cosa che affronteremo nello spogliatoio. Posso capire Fabrizio, perché comunque quando sei lì tutti stasera, anche chi è stato fuori, credo anche Falconi, che sapeva di non giocare, avrebbe voluto giocare a questa partita. Ho 12 giocatori, sanno tutti benissimo che purtroppo è arrivato il momento che non si deve guardare in faccia a nessuno, ma io mi devo affidare ai giocatori che mi danno determinate garanzie sia a livello tecnico-tattico sia a livello emotivo e quindi stavolta è toccato a Simone e Angelo, la prossima volta vediamo se in allenamento mi mettono qualche dubbio per farmi cambiare idea. Però non è una vociatura definitiva, io valuto partita per partita, vedremo anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Franco, dicevo prima con Fioravanti, se il bicchiere fosse più mezzo pieno o più mezzo vuoto, la stessa domanda la faccio a te. Ho una sconfitta netta nel punteggio, nel corso del primo tempo, cosa non ha funzionato e poi però siete stati bravi a rimettere in piedi la situazione e la differenza canestri. La risposta è duplice, innanzitutto molti complimenti a Domodossolo perché credo che abbia giocato e ha iniziato la partita con un'energia, con una determinazione, con una voglia di metterci sotto veramente da una squadra non ultima in classifica, anche se è logico che quando vieni su questi campi, campi caldi, dove uno si gioca la stagione, ti devi aspettare anche questo. Noi abbiamo giocato una partita forse una delle più brutte di quest'anno, ma parlo di contenuti tecnici e di contenuti tactici, nel senso che abbiamo preparato tutta l'altra partita, non siamo stati in grado di svilupparla, è ovvio ed evidente che questa è una squadra che ha trovato degli equilibri importanti e nuovi settimana scorsa, non possiamo regalare Galazzi a nessuno e Galazzi per me è un giocatore importante e determinante. Sì, forse siamo stati, come dici tu, bravi a ricucire, però io parlo dell'ultimo tagliafuori mancato e quindi tiri liberi i concessi e una squadra che deve giocarsi la salvezza non deve commettere questi errori, ma parlo solo dell'ultimo errore. Noi purtroppo abbiamo bucato la partita da un punto di vista proprio psicologico, perché certi ragazzi si giocavano per la prima volta una partita di un'importanza del genere e dovremo lavorare su queste cose. Ripeto, noi sappiamo dove dobbiamo andare a lavorare, cosa dobbiamo fare, è ovvio ed evidente che la prima cosa è che dobbiamo cercare di recuperare Galazzi, perché se regaliamo Galazzi facciamo fatica veramente con tutti. Franco, mancano sei partite, ci arrivano a queste tre partite tre squadre a quota 16, le altre ormai sono fuori portata, cosa può fare la differenza in questa volata? Il calendario, le motivazioni, lo stato fisico, lo stato psicologico, il fatto di magari giocare qualche partita più in casa, se voi avete delle partite più in casa, lo dico perché in questa giornata non c'è stata nemmeno una vittoria esterna. Sai, tu hai toccato due tasti importantissimi, uno è l'aspetto motivazionale e l'altro l'aspetto emotivo. Secondo me in questo momento io ho visto una squadra domodossola molto in salute sotto questo aspetto qua e non mi sembrava di averla vista in uno stato precario anche contro Meglia, nel senso che mi sembra che anche domenica scorsa c'è stato un terzo quarto di Simoncelli che tu hai paragonato, credo, ad un americano e credo che quando tu giochi contro un giocatore di categoria superiore e questo ti fa queste cose, devi abbassare bandiera Bianca. Stasera abbiamo visto una squadra molto in salute e chiaro, ti ripeto, che noi dobbiamo cercare di risolvere prima di tutto i nostri problemi di salute, oltre che a problemi di collettivo perché i primi due quarti qua non me li dimentico facilmente. Però visto che sono molto sereno vorrei aggregarmi a quello che hai detto tu all'inizio della partita domenica scorsa. Noi abbiamo perso un amico, abbiamo perso Gigi. Io mi sentivo di fare qualcosa di importante per lui stasera. Non ci sono riuscito, questo è il mio più grosso rammarico, credi, indipendentemente da quello che è il risultato di stasera. Dunque, ti chiedo una cosa a Corrado e lo chiedo anche a Antonio e la domanda che ho fatto anche a Alessio perché domenica l'impressione è che a fine partita ci fosse quasi più rabbia per non aver ribattuto la differenza a Canestri piuttosto che essere felici per la vittoria. E io parlando anche con qualcuno della società a fine partita e oggi ho detto ma ragazzi, mancano sei partite difficilmente si arriverà a tre squadre, a due squadre. Quindi voglio dire, bisogna prendere il bicchiere tre quarti pieno piuttosto che guardarlo un decimo vuoto, il mio personale giudizio. No, beh, non era vero che eravamo tristi a fine partita. Eravamo soddisfatti della buona prova fatta però all'ultimo, così, dopo essere stati magari sopra di venti tutta la partita, a farci recuperare gli ultimi tre minuti sono stati bravi loro perché hanno trovato Canestri importanti nel finale è rimasto un pochettino di amore in bocca ma comunque eravamo tutti soddisfatti e felici della vittoria. Antonio? Ma intanto devo dire che non mi sarei aspettato un'analisi un modo di vedere la cosa così da te però sì, io sono nettamente, cioè nel senso se prima della partita qualcuno veniva e mi diceva adesso sei retrocesso, metti la firma di vincere di 12 una partita dove se no sei retrocesso avrei sicuramente firmato, cioè nel senso solo positività se andiamo avanti a lamentarci, a prenderci al dorso vedere sempre il bicchiere mezzo pieno cioè per me dobbiamo salvarci pensando a noi a vincere la partita il resto tutto è ghiacchiere Marco, a proposito degli infortuni ce ne sono stati tantissimi in tanti dicono da cosa dipendono questi infortuni tu ti sei fatto un'idea? C'è casualità? C'è qualcos'altro? Ma no, è difficile farsi un'idea anche perché quando sono così tanti e differenti è difficile farsi un'idea quindi è stato direi un anno sfigato da questo punto di vista non c'è nessuno contro cui puntare il dito come diceva Antonio bisogna essere positivi anche noi in questo momento e cercare di raccogliere tutte le forze che ci sono rimaste per puntare poi a fare meglio nel finale di stagione quando speriamo saremo tutti insieme Vediamo anche un retroscena cioè non retroscena le ultime notizie che arrivano non so se Moncelli non l'abbiamo fatto c'è stato questo infortunio durante il derby dopo il contatto che c'era stato con Tucci ha battuto il ginocchio Simoncelli la risonanza a cui è stato sottoposto ha scongiurato lesioni a menischi e lesioni ai legamenti c'è uno stiramento al poli popliteo non so cosa sia dove sia almeno 7-8 giorni di stop bisogna vedere come reagisce e poi si potrà fare un'ulteriore diagnosi sicuramente non ci sarà sabato nel derby contro il Borgosesia e probabilmente anche nella trasferta del turno di far settimane contro il Bottegone chiedo a tutte e tre questo mancano sei giornate immagino che uno sguardo al calendario lo abbiate tutti dato la Paffoni è in lotta con Moncaglieri per il primo posto di queste sei partite tre saranno in casa e tre saranno in trasferta trasferta difficile a San Mignato abbordabile a Bottegone e difficile a Cecina con l'ultima a San Mignato Domo ha tre partite in casa e tre partite in trasferta tre partite in casa contro Firenze all'ultima che potrebbe essere quella decisiva in casa contro Moncaglieri nel turno in far settimanale e in casa contro Borgosesia allora vi siete fatti una tabella delle vostre partite e di quelle degli avversari sì o no? Marco, Antonio e Corrado? sinceramente degli avversari no io guardo principalmente la nostra squadra come ti dicevo prima gli infortuni non ci aiutano a trovare continuità e la cosa di cui abbiamo maggiormente bisogno adesso in vista delle tre trasferte tra l'altro lunghe in Toscana dobbiamo cominciare da sabato trovare quella continuità come ti dicevo che c'è mancata anche perché finire bene la stagione secondo me è troppo importante per cominciare i playoff al meglio io non conoscendo diciamo né squadra né giocatori chiedo e vivo soprattutto partita dopo partita adesso abbiamo Cecina e come dicevo prima dobbiamo sempre dare tutto perché se abbiamo intenzione e abbiamo intenzione di salvarci noi dobbiamo pensare a noi stessi a vincere le partite e basta Cicina che credo che non abbia ancora Salvadori perché domenica non ha giocato quindi immagino che abbia subito un nuovo infortunio sarebbe un vantaggio non indifferente perché Salvadori nelle prime giornate quando giocava Cecina era prima in Cassivica tra l'altro è il miglior tiratore da due del campionato 81% e 42 da tre nell'ultima partita non ha giocato non so se sia nuovamente infortunato non lo so sinceramente però noi andiamo a Cecina con uno spirito positivo perché la vittoria ci ha aiutato ci ha dato morale e dobbiamo pensare a vincere domenica poi lunedì penseremo alla prossima alla fine due punti sono sempre due punti sia che si giochi in casa o fuori più partiti riusciamo a vincere sarà importante per noi Ho chiesto a tutte e quattro l'importanza del fattore campo nelle ultimi due turni del girone B nel girone A non c'è stata nemmeno una vittoria esterna cosa significa? Che conta no niente è importante giocare in casa perché comunque hai una spinta in più dal pubblico e facilita la cosa poi nel nostro girone Piemonte Toscana magari il viaggio è anche un po' lungo perché sono sempre 4-5 ore quando vai in Toscana quando va bene e questa cosa facilita chi gioca in casa sicuramente puoi pagare poi lo chiedo anche a Lorenzo come il fattore campo serie D Sì puoi pagare il viaggio puoi pagare tutto però secondo me non vincere mai fuori casa è una mancanza di carattere e di quadratura della squadra secondo me magari fuori casa non sei così quadrato come riesci ad essere in casa ed è una pecca di una squadra secondo me è importante sicuramente il fattore campo è importante soprattutto a noi in questo momento è vitale perché giocare in un palazzetto pieno come lo è stato contro di loro nel derby contro Domodossola ci ha dato una grande mano giocare fuori casa bisogna essere bravi nonostante l'assenza del pubblico a rimanere concentrati e lucidi per portare a casa sempre i due punti forse non è un caso ad esempio che nel giro dell'andata la profonda abbia vinto in trasferta a Siena dove c'erano 60 tifosi che avevano organizzato il pullman a Moncaglieri dove ha giocato di fatto in casa a Borgosesia dove ha di fatto giocato in casa cioè in trasferta come dice Antonio come ha detto Corrado viaggio è lungo in trasferta nel giro di ritorno non ci sono stati tifosi non è casuale questo sì sì non è casuale però a prescindere da tutti i nostri tifosi al seguito che ovviamente fa soltanto ripiacere avere tanta gente che ti seguono anche in partita lontana dobbiamo essere bravi a portare lo stesso a casa i due punti in qualsiasi condizione infortunati o assenza di pubblico avete vinto tre partite in tassetta consecutiva prima dell'ultima o sbaglio Lorenzo? sì stranamente siamo riusciti a vincere queste tre partite molto importanti a parte l'ultima adesso abbiamo perso contro Montalto Dora che era molto importante per la classifica adesso ci hanno ripresi siamo pari per fortuna almeno scontro diretto siamo avanti noi perché l'andata ha vinto di 11 al ritorno domenica abbiamo perso di 4 il fattore campo comunque molto importante si sa da sempre in tutti i campionati che è il tuo pubblico noi adesso ci mancano quattro partite per finire la stagione per fortuna tre sono in casa anche se sono comunque molto difficili l'unica in trasferta sarà Gemme che si sa come andrà a finire anche se abbiamo imparato quest'anno che noi non dobbiamo molto guardare contro che andiamo a giocare perché poi andiamo a vincere contro San Maurizio che sono secondi a San Maurizio andiamo a vincere ad Aosta però il fattore campo è sempre molto molto determinante dunque andiamo a dirci cosa ha preso Serroni nella partita di domenica sono stato generoso questa volta ti va bene l'otto generoso vedi già dici sono stato generoso sì sì va bene l'otto per me potevi potevi darmi qualsiasi voto tu remutavi giusto le pagelle le fai tu no l'altra volta non la pensavi tanto così nel derby quanto ti ho dato secondo te che ho avuto discutizioni sempre con il mio amico Fabio Antonio Pirazzi non mi ricordo che voto ti saresti dato nel derby sei non mi ricordo neanche io cosa ti ho dato nel derby vediamo le pagelle Idalgo sei e mezzo partita attenta giudiziosa in controllo senza forzature Realini sette e mezzo un gigante tredici punti cinque rimbalzi sei assist nella bagar si esalta da cavaliere mascherato Serroni otto quasi perfetto tira e segna con un eloquente otto su undici dal campo unico neo quel libero finale ma è stato il fattore del match Bianconi sette si è caricato la squadra sulle spalle quando serviva Tucci cinque condizionato dai falli non riesce ad incidere Foti sei una tripla importante batti becco con fioravanti sul cambio nel finale Avanzini sette la solita partita di grande utilità mette cinque punti in un momento topico D'Andrea sette chiamato in causa risponde presente Petricca sette il soldato Francesco quando c'è da combattere non si tira indietro mai Orsini cinque due antisportivi in sei minuti con conseguente espulsione dunque abbiamo visto le pagelle di una partita importante quella contro la Mami vi chiedo come avete visto i vostri avversari cioè prima parlavamo di tabelle non di pagelle nelle ultime sei è chiaro che Oleggi è una squadra che ha perso un giocatore di riferimento come Dri a Gallazzi che è al 20% perché domenica ha giocato sette minuti al di là dell'espulsione però si vede che è meno matto a livello fisico lo ha sottolineato Passera è chiaro che in questa volata l'impressione è che ci arriviate un po' meglio a livello di testa e di gambe almeno io credo che sia così penso che prima della partita che loro erano in vantaggio nei due punti fossero capovolte le situazioni dove loro non avevano diciamo di testa magari un vantaggio perché sapevano che non era tra virgolette fondamentale la vittoria noi sapevamo che se non vincevamo eravamo retrocessi quindi eravamo finiti e questa cosa ci ha aiutato secondo me perché siamo entrati in campo carichi li abbiamo aggrediti subito e loro si sono trovati in difficoltà però su una gara singola questa cosa può contare bisogna vedere come reagiremo noi a questa vittoria e loro a questa sconfitta quindi alla lunga non saprei dire se dico che sono decisive le prossime due partite mi spiego meglio Oleggio gioca in casa sabato contro Siena e potrebbe essere una partita a favore di Oleggio anche se Siena deve cercare di raggiungere la salvezza poi nel turno infrasettimanale Oleggio andrà in trasferta Domo gioca a Cecina e in casa contro Moncaglieri dopo queste due partite ne mancheranno quattro però si potrà magari guardare la classifica e fare dei ragionamenti sì sì sicuramente sicuramente due partite ne mancano detto alla fine sei quindi sì tra due partite già devi iniziare a pensare alla situazione dove ti ritrovi forse le nostre sono più difficili non lo so non conosco però Moncaglieri magari è una squadra che è alta in classifica se non sbaglio c'è detto niente allora io mi faccio la scommessa la dico non ho mica problemi ho scommesso con il tuo responsabile marketing vice patron perché il patron è il presidente Antonio Pirazzi suo fratello è il vice patron chiamiamolo così ha fatto la scommessa che nel turno di far settimanale Davina Vici Pir batte Moncaglieri spero sia spero sia una scommessa e non una gufata perché no no sicuramente noi dobbiamo dare tutto sempre quindi se Moncaglieri viene qui pensando che viene a fare una passeggiata sicuramente non è così come noi dobbiamo andare a Cecina e riuscire a portare a casa due punti per il discorso invece del primo posto allargo un pochettino cioè ci sarà in quelle tre partite nella prossima settimana Borgossese in casa trasferta a Bottegone sulla carta abbastanza forse delle sei partite quella più agevole e poi Piombino in casa potrebbe essere che la Paffoni al termine di questo miniciclo si ritrovi di nuovo prima in classifica io lo spero anche perché secondo me può essere importante questo miniciclo per ritrovare continuità cioè vincere in casa contro Borgossese andare a Bottegone vincere e poi ancora in casa contro Piombino sicuramente andiamo a giocare contro squadre che a questo punto dell'anno lottano ognuno per i propri obiettivi quindi non sarà facile però secondo me la affrontiamo nel modo giusto anche perché rientrano Auguro e Diego e quindi secondo me possiamo tornare a casa con non dico punteggio pieno magari però con almeno quattro punti sicuramente quattro punti è il minimo sindacale bisogna farne sei attenti Pagella è sei ho sbaglio? non so che cavolo ho ragione andiamo a darci il punto adesso sulla serie D con la Vega e la cestistica targata di Casa Poli Opposti sconfitte però entrambe in piena lotta per raggiungere i play-off inimmaginabile sconfitta della di casa Poli Opposti cestistica domodossola che in casa della penultima in classifica San Mauro cade fragorosamente 72-51 ma in partita la compagine ossolana gioca una partita sotto tono non riuscendo mai a mettere in campo quella voglia e determinazione che sono state decisive nelle vittorie con Chivasso e Montalto Dora nel secondo tempo i ragazzi di Coach Valmaggia provano a rifarsi sotto ma la serata non è favorevole ai domesi costretti così a portarsi a casa il referto giallo per 72-51 non è andata meglio alla Vega Occhiali Gravellona che a Montalto Dora ha ceduto 73-69 i padroni di casa provano a scappare nel secondo quarto ma Gravellona recupera e chiude il primo tempo sul più 5 anche nel terzo quarto Gravellona resta con la testa avanti ma nel finale Macario Ban firma i punti prima del pareggio e poi del sorpasso i gialloneri non riescono a ricucire lo strappo e incassano la sconfitta per 73-69 in questo modo le squadre tra il settimo e il decimo posto hanno tutti gli stessi punti Montalto Dora Vittoria Torino Domodosso e Le Gravellona così che tutte e quattro siano coinvolte nella lotta playoff e contemporaneamente per non entrare nei play out nel prossimo turno non può permettersi altri tonfila di casa polioposti cististica Domodossola che accoglierà Chieri mentre la vega occhiali gravellona se la vedrà con Galliate dunque abbiamo visto il punto sulla serie di Fabio quattro giornate al termine anche qui una marea di squadre a quota 16 e 14 insomma la lotta playoff è serratissima e credo che probabilmente una sola tra vega e di casa polioposti farà i playoff ed è in programma lo sconto diretto tra tre settimane o sbaglio tra tre settimane forse sarà quella la partita che decide tutto sì quella sarà sicuramente una partita importantissima sia per noi che per loro purtroppo all'andata hanno vinto loro noi quasi non ci siamo neanche presentati in campo è stata una delle nostre peggiori partite del campionato sì siamo lì tutte lì siamo noi Domo poi c'è Chieri Montalto Dora forse ho orato oggi il calendario Chieri quella che dovrebbe fare un po' più fatica a vincere qualche partita però anche noi avendo Gemme avendo anche Chivasso che sono terzi sarà dura ma non dobbiamo mai pensare contro che andiamo a giocare perché bisogna vincere il più partite possibili sperando che Domo faccia qualche altro passo falso come ha fatto Domenica che sono andati a perdere a San Mauro che sono penultimi Seconda domanda che ho fatto la scorsa settimana a Gabutti per te il primo anno con la maglia della Vega arrivi da Rona un bilancio personale? Secondo me è molto positivo devo dire che si sente un po' che cambia la categoria però per me è positivo perché ho imparato ad avere più responsabilità rispetto a quello che avevo l'anno scorso con la squadra mi trovo bene perché conosco tutti da sempre da quando sono piccolo giocavo sempre con loro fino a quando sono stato qua a Megna secondo me è molto positivo mi sono trovato bene a D'Arona mi sto trovando bene qua quindi continuo così vi chiedo a tutti l'ultima domanda prima di 10 punti del giovanili che è questa cosa può fare la differenza nel raggiungere i rispettivi obiettivi in questi ultimi due mesi cominciamo da Marco poi gli altri secondo me a questo punto della stagione la serenità è importantissima cioè rimanere tranquilli non farsi prendere dall'ansia soprattutto per paura degli infortuni delle assenze rimanere tranquilli positivi affrontare ogni partita al meglio senza troppe pressioni addosso e poi una volta che ci saranno i playoff con la giusta concentrazione e rabbia chiaramente agonistica per fare il meglio possibile sì certo assolutamente sì rimanere tranquilli però avere sempre quella voglia di vincere che sia nei play out che nei play off fa la differenza quella rabbia agonistica quella voglia di vincere quella buttarsi in più su un pallone vagante quelle sono le cose che in tutte e due le situazioni fanno vincere le partite secondo me Rada poi Fabio sì diciamo rabbia agonistica eccetera io la pregio Antonio secondo me raggiungere gli obiettivi o meno in una stagione ti fa anche rivalutare un po' tutto com'è andata la stagione come pensi che sia andata magari la Paffoni facciamo le corna non vince il campionato anche se anche se hanno un roster che sono molto competitivi molto forti però poi pensi sì però ho fatto due partite all'inizio della stagione con tutti i giocatori quindi ti fa rivalutare un po' tutto secondo me se arrivi o meno a raggiungere i tuoi obiettivi i conti come si suol dire si fanno sempre alla fine perché farli a livello parziale è sbagliato bisogna veramente farli all'ultimo secondo all'ultimo tiro anche perché nel pallacanestro qualche volta anche dopo l'ultimo secondo arrivano i canesti che vengono convalidati e non sono buoni vi lascio ai punti dei giovanili tra l'altro devo sottolineare la grande prova di un nostro telespettatore giovane che ha fatto 40 punti ornavasso quindi lo salutiamo lui sa chi è quindi ha fatto 40 punti nella partita tra le giovanili della Fugio Scuola Basket e la Rona 40 punti non sono pochi Antonio le hai mai fatti 40 punti sì giovanili giovanili Marco 57 in una partita propaganda giovo 14 anni giocavi tu 14 anni contro quelli di 8 contro quelli di 8 nettamente fisicamente ero già superiore e beh Corrado ne ha fatti la prima partita in casa ne hai fatti qualcuno 33 se non vado errato 32 30 no secondo me è di più era 29 il primo tempo è uno a seconda no no 32 secondo me ci vediamo i punti dei giovanili io ringrazio facciamo con la manina Marco Arrigoni ciao Marco grazie Antonio Serroni Corrado Bianconi e Lorenzo Caroni l'ho chiamato un po' di volte Fabio un po' di Lorenzo va bene così va schettando torna martedì prossimo alle 20.35 la C Silver di coach Bussoli cade a Colbe di Torino sprecando una buona occasione per riprendere il trenino dei playoff la postseason è ancora raggiungibile ma a 5 giornate dal termine la priorità è ovviamente quella di salvarsi per farlo servirà l'impresa sabato quando al Vikings Garden arriverà la capolista Reba Basket vittoria del Girone è sempre più vicina per Bianchi e compagni l'Under 20 regionale mette al tappeto Ponderano al termine di una partita intensa che avvicina l'obiettivo del primato a 2 giornate dal termine ottima prestazione dei Biancoverdi che conferma il periodo di forma della squadra la partenza timorosa condanna il gruppo Under 18 Elite di Coach Romerio contro la forte Crocetta i torinesi reduci dal campionato di eccellenza mettono in campo una fisicità troppo superiore a quella dei giovani vichinghi costretti ad alzare bandiera bianca nonostante il discreto secondo tempo messo in campo tutto facile per l'Under 16 Elite per Gobi e compagni passano sopra San Paolo Torino grazie a una buona prova di squadra gli ospiti restano in scia per 5 minuti poi soccombono cercando ausilio nella difesa zona Arona è preparata e perfora ripetutamente la 2-3 torinese si conclude con una vittoria la prima fase del campionato Under 14 Arona asfalta Omenia nel derby e chiude al secondo posto nel girone adesso inizierà un nuovo campionato contro le migliori degli altri gironi ottima prova dell'Under 13 di Coach Montani che chiude la prima fase con una vittoria e rimonta da meno 15 con il nuovo season height per punti realizzati 58 sconfitta ma grandi passi in avanti per le nostre Under 13 regionali le ragazze di Coach Lucchi hanno combattuto contro la prima della classe Novara pagando a caro prezzo le numerose ingenuità la prima fase la prima fase che chiude l'ho la prima fase che chiude l'ho l'ho